Siamo con Luca Toniolo che è responsabile commerciale di Cerampiù. È un'azienda all'interno del settore particolare perché fa un tipo di stufa e camminetti ad accumulo però in ceramica. Ci spieghi intanto questa particolarità? La stufa ad accumulo in ceramica è legata a una tradizione molto antica, però adesso con i sistemi attuali di costruzione e materiali è particolarmente evoluta. La stufa ad accumulo in ceramica ha il pregio di rilasciare il calore gradualmente nell'ambiente senza muovere chiaramente l'aria e quindi scaldando per il raggiamento. È come avere un piccolo sole all'interno della propria casa e anche la bioarchitettura consiglia particolarmente il calore radiante delle stufe ad accumulo in maiolica. Si può praticamente, una volta si è legati a una forma delle forme tipo le stufe decorate, le stufe decorate che si vedevano nei palazzi antichi praticamente, ma adesso si possono anche costruire delle vere e proprie stufe cammino, sempre ad accumulo con delle forme molto moderne, molto attuali e anche minimaliste praticamente e quindi molto vicine ai sistemi attuali di arredamento. Cioè voi avete portato un, chiamiamolo un oggetto, della tradizione, l'avete reso contemporaneo attraverso il design. Rimane quell'anima, chiamiamola antica? Sì, rimane sempre l'anima antica perché comunque il sistema, il concetto di riscaldamento proprio per calore radiante rimane pressoché il medesimo. Il calore radiante è la parte proprio forte di questo tipo di stufe e camminetti perché, ripeto, è molto molto sano perché non mette in circolazione le polveri. Scaldando per il raggiamento, praticamente avendo un rilascio graduale, non c'è movimento di aria praticamente nell'ambiente. Salubrità e anche benessere. Ci spieghi che cosa è il benessere dato dal fuoco? Il benessere dato dal fuoco, l'uomo, probabilmente una delle più importanti scoperte dell'uomo è stato il fuoco, spesso ce ne dimentichiamo, ma attraverso, solo attraverso il fuoco l'uomo ha potuto evolvere nella società perché qualsiasi oggetto, qualsiasi materiale, il benessere e anche la protezione che ha avuto dal fuoco è interessantissimo da vedere. Quindi il legame con il fuoco negli ultimi decenni si è spezzato con le forme moderne di riscaldamento, però praticamente negli ultimi 10-20 anni c'è stato un riavvicinamento come quasi fosse una necessità dell'uomo praticamente a rivicinarsi al focolare domestico, cioè quello che ha sempre rappresentato la sicurezza all'interno delle proprie abitazioni. A progetto fuoco cosa vedremo in particolare? A progetto fuoco... Per quanto riguarda cerampio naturalmente. Noi presenteremo una serie di stufe sempre in ceramica preggiata, praticamente sempre legate alla combustione con la legna, delle stufe di dimensioni relativamente piccole, però sempre legate alla combustione della legna, praticamente perché proprio per noi rappresenta il comfort abitativo massimo. Una cosa molto importante è che le camere di combustione, chiaramente delle stufe a legna attuali, sono completamente diverse rispetto a quelle di 20 anni fa, quindi anche dal punto di vista ambientale si hanno degli rendimenti e soprattutto delle emissioni molto basse, e questo è dovuto alla differenza che c'è tra un'auto di 20 anni prodotta, 20 anni fa e una stufa di 20 anni fa. C'è la stessa differenza che spesso ce ne dimentichiamo praticamente. Si pensa sempre alla stufa come un camionetto, come un qualcosa di antico, però l'evoluzione che c'è stata su una stufa o su un camionetto attualmente è la stessa che c'è stata sui motori delle automobili.